buongiorno amici e amiche di Fc Inter News ben ritrovati con l'appuntamento delle dodici sul nostro canale YouTube da lunedì a venerdì un video approfondimento per parlare insieme della nostra Inter e oggi ritroviamo ancora una volta con noi il nostro Alessandro Cavasini ben ritrovato Alessandro ciao ciao buongiorno Raffaele buongiorno allora Alessandro nel video di ieri no oltre a commentare la vittoria dell'Inter su Juventus abbiamo già parlato di uno dei protagonisti di del del big match di San Siro Benjamim Pavar che è stato eletto anche no miglior in campo eh dai dai tifosi diciamo che se l'è combattuta fino all'ultimo con un altro con un altro grandissimo giocatore Chiacan Cialanolu eh una prestazione incredibile che in qualche modo ha ricordato a tutti no eh l'importanza del del tutto che era mancato a Firenze no ma ben sostituito da da Aslani eh però ecco eh anche il minutaggio eh di Aslani in qualche modo no va anche giustificato perché Cialanolu ha fatto capire a tutti di essere veramente un elemento imprescindibile eh di questa di questa Inter allora partiamo dagli origini no Alessandro perché dobbiamo dirlo Cialanolu play è un'invenzione è chiaro che in queste questi giorni sono circolate no alcune alcune retroscene il primo no a schierare lì è stato Giampaolo all'epoca ai tempi del Milan poi ci ha riprovato anche Gattuso se non erro però ecco dobbiamo dire che a Cannes Cialanolu play questo qui è un'invenzione totalmente inzaghiana è chiaro che il contesto sicuramente lo ha facilitato perché si trova in una macchina perfetta però in Zaghi è stato bravissimo 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 a capire le potenzialità di un giocatore cosa ti sorprende di più di Ciala play rispetto a Ciala mezzala eh sicuramente l'attitudine a a non mollare mai in fase di contrasto peraltro è una caratteristica una peculiarità che lui ha ha sempre rivendicato ma evidentemente in pochi gli riconoscevano e e invece la capacità di fare i filtri di andare a sporcare palloni non a caso ha ha già sei cartellini gialli tutti per fallo peraltro no a differenza magari di Barella che l'ottantacinque per cento sono arrivate per per proteste più o meno corrette e lui tutti per fallo falli spesi evidentemente a livello tattico nemmeno troppo ingenuamente oserei dire nel senso che sono tutti stati falli che ci dove che ci stavano e che quel ruolo esige proprio per non magari lasciare spazio come abbiamo visto in altri in altre stagioni no a ripartenze poi mortifere degli avversari da quel punto di vista è cresciuto tantissimo è cresciuto lui a tutto tondo perché il calcio io lo ricordo dai tempi dell'Hamburgo questo tipo di calcio vellutato e e sopra fino ce l'ha sempre avuto è chiaro che poi se tu lo metti in un contesto ma come tutti noi esseri umani con la fiducia e la protezione e magari attorno a a a lui anche gente che parla la stessa lingua calcistica che il che non guasta ecco qui che allora si viene a creare no quel quel humus che ti fa ti fa sbocciare un un vero e proprio campione oggi possiamo parlare di di un vero e proprio campione è chiaro che questa domanda o meglio questo dibattito io lo devo affrontare perché una delle tematiche eh tengo a precisare che quando noi facciamo questi tipi di discorsi non vogliamo in qualche modo così dice eh sputare nel piatto dove avevo mangiato si dice così eh però voglio fare un paragone tra lui e Brozovic no play perché eh Alessandro io credo che ci sono delle differenze no eh molto molto importanti tra i due nel modo di no essere diciamo occupare quel tassello lì davanti davanti alla difesa in cabina di regia questa è la mia chiave di lettura poi magari mi dici tu cosa ne pensi e ne parliamo un po' delle differenze no tra Ciala tra Ciala e Brozovic ecco io credo che Cialanolu play abbia dato un po' diciamo di velocità alla manovra dell'Inter Brozovic è magari un regista a cui piace tanto toccare palloni smistarli però ecco fare più passaggi mentre Ciala anche con quel bellissimo passaggio no di Marco che poi è diventato no eh sui social molto molto virale è uno che cerca in qualche modo di più la verticalità eh fa queste sventagliate che comunque non sono nel suo nel suo curriculum ehm gioca anche più veloce la palla quindi la manovra secondo me è diventata più veloce con Ciala con Ciala play anche dal punto di vista no come dicevi tu del pressing perché io vedo sempre Ciala essere il primo a prestare magari in equazioni come rimesse laterali poi dopo cinque sei secondi me lo ritrovano in difesa ripiegare a netto punto che Brozovic era un maratoneta quindi parliamo comunque anche anche di lui no di un giocatore che occupava molto bene il campo quali sono secondo te ecco le differenze cioè si può dire che con Ciala è un Inter più veloce un po' più verticale mentre con Brozovic era più ragionata alla manovra possiamo dire così sì sì sicuramente sicuramente questa differenza paragonarli è difficile perché noi abbiamo visto abbiamo visto veramente Brozovic ai massimi livelli e parliamo di uno che è arrivato in finale di Champions League in finale dei mondiali e cioè insomma eh poi come dici tu giustamente si va presto a cancellare no perché poi si attratti sempre dall'attualità ma Brozovic Brozovic tra Conte e Inzaghi è stato qualcosa di veramente clamoroso altrettanto clamoroso e questo c'è la Nolu la cosa che che dici tu è corretta eh meno geometrico forse per certi punti di vista no meno proprio linee di passaggio eh lineari diciamo così più verticale più ficcante anche con una soluzione magari superiore da fuori perché Ciala è un pericolo per gli avversari perché è uno dei migliori tiratori in Europa al mondo oserei dire da fuori area e questo però ce l'ha da sempre Brozovic quel fondamentale che pure non è che gli mancasse così tanto perché qualche golletto l'ha fatto però è come se non credesse fin in fondo alle sue potenzialità quindi l'ha sfruttato meno però ricordo un paio di gol pure nel derby voglio dire da fuori quindi anche uno con la Juve in pressing eh poi resta intatta secondo me la base di di polmonare chiamiamola così perché Brozovic era un maratoneta ma pure Ciala non è che corrà e corrà tanto meno e sono diventati entrambi bravi anche in fase di di filtro non a caso entrambi nascono trequartisti no e questa è anche una una cosa perché pure Brozovic arriva all'Inter che era una sorta di trequartista barra esterno mezzo offensivo comunque un ciondolante lì non meglio identificato una sorta di ufo bravo poi a sgrezzarlo da mancini eccetera eccetera e a trovargli quel posto quella piazzola e fu Spalletti no quel famoso Inter Napoli quindi intuizione di Spalletti non lato Spalletti non è nuovo no a quell'intuizione vi ricorderete pure Pjanic naingolano no scambiati perché naingolano era il mediano e Pjanic era il trequartista e l'invertito mancava la prima punta diventa Totti e insomma e in Zaghi pure un altro che da questo punto di vista Darmian per esempio come braccetto non non era proprio la sua posizione naturale tanto per dirmi a uno. Sì no è chiaro che eh questi no sono la nostra chiave di lettura eh come hai detto bene tu c'è anche no il calcio il tiro da fuori c'è un senato per esempio mi viene in mente quest'anno ha detto poi della freddezza degli 11 metri perché è chiaro no anche poi dai cacci d'angolo è un fattore c'ha la cacci piazzati cacci di rigore c'è la lungo veramente è un plus per per l'Inter eh però ecco questo è Alessandro la chiara testimonianza di come bisogna fidarsi della dirigenza perché ecco in estate quando è partito Brozovic tutti di poi comete no il lamento del corale era eh ora si ne va Brozovic risentiremo nella fase di costruzione non può esistere un Inter senza Brozovic non si può giocare a calcio senza Brozovic ma probabilmente in zaghi anche per tutti quello che era successo no per esigenze nella passata stagione Inter Barcellona e Barcellona Inter sono quelle le due partite chiavi secondo me in cui c'ha la segna da fuori area poi ecco siamo siamo tornati in andata di San Siro ma ritorno c'ha la loro fanno a partita camp no strepitosa dal punto di vista no dell'importanza eh di quel in quel ruolo bisogna fidarsi della dirigenza bisogna fidare del mister perché il mister probabilmente in zaghi aveva visto nei allenamenti questo tipo di soluzione ha capito che c'ha la loro potesse in qualche modo ricoprire anche il ruolo di play eh con poi una slanino un investimento già fatto alle spalle quindi poi si è deciso di sacrificare anche per motivi di bilancio Brozovic dove lo mettiamo? Vabbè sicuramente sul podio no dei top tre di Gisalmo diciamo che lo mettiamo lì non facciamo primo secondo terzo però è con i rodri con con quei giocatori lì comunque assolutamente sì poi dipende anche dall'attitudine della squadra no? Perché ti faccio un esempio proprio fresco 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 eh quando in queste ore sicuramente anche tu avrai ascoltato no? Però chissà a panchine invertite come sarebbe finita Inter Juventus no? E molti no? Quasi tutti concordi sarebbe finito uguale perché l'Inter ha giocatori superiori. Io dico magari a panchine invertite in zaghi alla Juve non si sarebbe fatto prendere McKennie e Locatelli ma si sarebbe fatto prendere Mkhitaryan e Cialanolo no? E questo però non possiamo far finta che non esista perché sono scelte e il fatto di mettere lì Cialanolo comunque di volerlo consultato no? Lo sappiamo Osilio lo conosceva Ciala chiaramente dai tempi del Bayer Leverkusen addirittura quindi parliamo di un'era geologica fa eh però c'è sempre il consulto anche con l'allenatore bravo poi quindi io vedo vedo del merito fare confronti con gli altri giocatori ripeto dipende poi dalla volontà della squadra eh io non lo so francamente se in quest'Inter sarebbe meglio Rodri o Cialanolo te lo dico proprio in maniera spassionata perché eh bisogna bisogna capire quello che tu che tu richiedi chiaramente Rodri magari ha una fisicità anzi non magari sicuramente ha una fisicità maggiore eh però è meno incisivo in zona gol chiaramente adesso ci saranno le battute no? Mimate subito eh però uno a zero fine certo va benissimo però parliamo insomma di cosa è la partita della mezzala eh sì poi Ciala nasce tre quarti da quindi la porta sicuramente non la vede a vista di più nella sua nella sua carriera però io sono d'accordo con te secondo me per questa Inter secondo me è più ideale Ciala ma non perché lo stiamo vedendo a parte il fatto che l'Inter è una macchina perfetta in questo in questa in questo preciso istante ehm però secondo me ecco Zaki se lo tenerebbe stretto cioè lo scambierebbe assolutamente con Rodri sì poi non farebbe schifo nemmeno Rodri eh per carità voglio dire eh certo assolutamente magari con Zaki diventerebbe pure un goleador sì 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 però ecco secondo me ma ecco diciamo che quella sventagliata lì eh che ovviamente passa per l'estetica però lì è veramente il Ciala cioè Ciala regista è quello perché ti fa una giocata incredibile con un piede da trequartista però da regista e quindi ne beneficia tutta tutta l'Inter comunque ecco poi il calcio è bello perché vario l'uno avrà i suoi i suoi pareri i suoi giudizi in tanti hanno l'hanno paragonato a Pirlo no ma in realtà Pirlo scodellava i palloni a me francamente ha ricordato ha ricordato Gerrard che è uno dei miei centrocampisti preferiti totale 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 eh lui è Xabi Alonso ovviamente due due giocatori eccezionali ma quelle quelle palle lì tagliate colpendole sopra no così gli dai il il tiro dritto bello dritto peraltro effettato quindi ancora più quelle le face la Gerrard quelle cose la palla la palla che dà Di Marco che Di Marco non la deve nemmeno stoppare cioè la palla va e si ferma praticamente no quando arriva quando arriva all'esterno una palla pazzesca meravigliosa anche perché passa in mezzo a due ventini cioè non è sullo spazio sai perché è solo no deve passare in mezzo a due ventini e arrotata arrivando proprio su su Di Marco e che peccato poi Di Marco poi lei non ho capito se Di Marco a metterla un po' dietro o sicuramente c'è anche il salvataggio sì sì poi c'è anche un salvataggio providenziale di Bremer che ci mette comunque comunque del suo sarebbe stato un gol da mettere nella campagna abbonamenti secondo me con la sventagliata di di Ciala però eh giocatore veramente totale veramente totale fortunatamente lo abbiamo noi e sono felice anche per lui perché no merita a questo punto della sua carriera di essere veramente al top al top del mondo pagato meno un caffè sì 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 lo dobbiamo sempre ricordare Alessandro io ti ringrazio e ti saluto ci rivediamo presto sui nostri canali grazie a te Raff ovviamente so che questo dibattito che genera comunque no sempre dibattito diteci nei commenti voi cosa ne pensate se preferite Brozovic Prime ecco che ora si difiscono così o il Ciala Prime e anche magari tra Rodri e Ciala secondo voi chi ha il top ora nel mondo scatenatevi nei commenti noi ci vediamo questo pomeriggio alle 19 in diretta con il nostro salotto e non mi resta che lasciarvi con un calorosissimo sempre forza in te